Sono arrivati da tutta Italia per trascorrere un paio di giornate all'aria aperta, la scoperta dei tesori nascosti del Molise. La 28esima edizione del raduno nazionale dei camperisti, organizzata dall'Isernia Camper Club, ha portato i partecipanti nella Valle del Volturno, dove hanno potuto apprezzare non solo i siti di interesse storico o archeologico, come gli scavi di San Vincenzo al Volturno e il Museo del Risorgimento di Rocchetta, ma anche le bellezze ambientali tra il lago di Castel San Vincenzo e le Mainarde. La buona gastronomia locale ed eventi culturali, quali la rappresentazione in versione ridotta dell'Uomo Cervo a Castelnuovo e il concerto di musica popolare all'Abbazia di San Vincenzo, hanno regalato ai partecipanti un'ottima immagine della nostra terra. I camper sono dei 107 equipaggi che vengono dalla Calabria al Veneto, la 28esima edizione dei nostri raduni, quindi abbiamo fatto 28, sempre nei paesi molisani e quelli particolarmente piccoli che abbiamo fatti a Conca Casale, ad esempio, dove sono, come sapete, pochissimi abitanti, 120 abitanti, 180, eravamo 220 camperisti, quindi promuoviamo questo tipo di iniziative per far conoscere il Molise, convinti delle peculiarità che ha il Molise per quanto riguarda la natura, gli aspetti enogastronomici, roba che da altre parti ormai si vive molto raramente. Nel frattempo l'Isernia Camper Club continua la sua attività di promozione del Molise, come accaduto di recente al Salone Nazionale del Camper organizzato a Parma. Il Salone del Camper fa circa 143.000 visitatori, perché il turismo indirevante, nonostante quello che si pensi, è proprio ideale per regioni o comuni come quelli che ci sono in Molise, cioè laddove ci sono difficoltà di posti letto, il camper, non avendo bisogno di alberghi, viene e si può ospitare, come si vede qui, in un campo sportivo, in un prasumprato e far godere la gente che, ripeto, in città è abituata ormai a respirare smog, a fargli passare due giornate di veramente serene e di aria assolutamente pura. Puntare sulla nicchia del turismo all'aria aperta potrebbe essere dunque una buona idea per rilanciare i piccoli comuni molisani. Anche complimenti incassati dalla rivista di settore Plenair e dall'Unione Club Amici, tra le più importanti associazioni a livello nazionale, dovrebbero far riflettere. La nostra è una federazione che raccoglie in sé tutte o gran parte delle associazioni importanti camperisti o per il turismo itinerante che sono presenti in tutta Italia. Presa a testa siamo a quota 113 associazioni, di cui una è l'Isegna Camper Club, molto attiva e lo vediamo da questa manifestazione numerosa svolta qui a Rocchetta a Volturno ed è un'ottima iniziativa soprattutto per lo sviluppo e la promozione di questo territorio che non è sconosciuto ma senz'altro è in via d'evoluzione.